Due annate da sogno, Brunello 16 riserva 2015, un ottimo rosso di Montalcino 2019. E allora, cosa c'è da aspettarsi nella guida per quanto riguarda i vini di Montalcino? Beh, è un problema perché in effetti ormai la qualità è altissima. Ci sono delle annate meravigliose, anche con il rosso, sono d'accordo. E il rosso ha bisogno di essere considerato di più, anche dalle guide. Noi ne premiamo sempre qualcuno e avremo dei grossi problemi, ma problemi di abbondanza. Quindi bisognerà ogni tanto fare delle dure scelte, però Montalcino verrà fuori molto molto bene perché è un momento fantastico per tutta la denominazione. Abbiamo due grandi annate, la 15 come riserva e la 16 come annata. Sono due annate importanti per Montalcino con caratteristiche assolutamente diverse, ma sempre qualitative. La 16 sicuramente più fresca, più tonica, più acida e quindi anche più vibrante. E la 15 più ricca, più tranquilla, più larga che lunga, se vogliamo, che dritta. Quindi sono due belle annate. Quindi io credo che siamo fortunati, abbiamo dato dei punteggi abbastanza elevati. E rispetto all'anno scorso, nella nostra guida, credo che potremmo crescere di qualche elemento come premio. Ecco, almeno lo spero. Ovviamente dipenderà anche un po' di tutto quello che succede in generale nelle altre regioni, ma sicuramente Montalcino quest'anno è messa molto bene. Sulla prossima guida ci sono sicuramente delle belle conferme, nomi che imperversano da tempo sulle bocche di tutti noi, però c'è anche qualche novità, c'è qualche piccola azienda che ha imparato a costruire una sua propria identità e di interpretare l'annata, un'annata poi come la 2016, che è stata un'annata di grazia per tanti produttori di questa zona e che proprio nella 2016 sento di poter dire che, insomma, abbia coronato un percorso fatto di precisione stilistica e di identità. Identità sia propria, chiaramente, ma anche negoziata costantemente con quello che è l'elemento naturale, che insomma poi determina tutto. Per tradizione assaggio solo l'annata che esce, quindi il 2016, beh c'è da aspettarsi grandi cose. Ho avuto molte difficoltà perché io faccio nelle mie degustazioni le semifinali, le finali, quest'anno c'era un assembramento notevole, tante punte, tanti brunello di Montalcino che raccontano l'origine e la natura di questo vino. La ritengo un bel ambasciatore del Brunello, lo è stata la 2015, forse ancora di più la 2016.